Le risorse idriche sono sotto pressione. La scarsità di acqua colpisce il 40% della popolazione globale e si stima che 663 milioni di persone non abbiano la possibilità di accedere facilmente a fonti di acqua potabile. Dagli anni 80 il consumo di acqua dolce è aumentato dell'1% ogni anno, soprattutto per la crescente domanda dei paesi in via di sviluppo. Ci si aspetta che la popolazione mondiale aumenti del 33% tra il 2011 e il 2050, passando da 7 miliardi a 9,3 miliardi e che nello stesso periodo aumenti del 70% anche la domanda di cibo. Globalmente il 70% del consumo di acqua dolce è per l'agricoltura, consumo che arriva fino al 90% nei paesi in via di sviluppo. Se non si attueranno misure per migliorarne l'efficienza, il consumo di acqua per l'agricoltura arriverà ad aumentare di circa il 20% entro il 2050.